Musica Better ragazzi e suggesti su questo nuovo video Oggi faccio un video brevissimo Soprattutto per fare un sondaggio tra di voi Per una nuova serie da portare sul canale Voglio portare un walkthrough Niente giochi nuovi Perché io i miei giochi nuovi preferisco comunque godermeli un po' Giocarmeli da tranquillo Perché comunque non riuscirei a comprarli al day one o roba del genere Cioè con certi sì altri no dipende Non è che ho soldi infiniti da dire Mi compro subito tutti i giochi del one Quindi diciamo che quelli su cui punto di più li compro al day one Gli altri li lascio aspettare una o due settimane Dipende da quanto sono importanti per me questi giochi Tipo ho preso God of War L'ho preso una settimana dopo Non perché non fosse importante quello Proprio perché non sono riuscito perché ho preso la collector Me lo sono dovuto far arrivare da ebay E di 3BeaconHuman invece l'ho preso il day one No cacchiata Neanche quello perché Ero occupato il day one Cioè non c'ero Ero fuori casa tutto il giorno Allora l'ho preso il giorno dopo Beh un giorno non fa la differenza Che tra l'altro L'ho già finito Da un paio di giorni Non butto neanche il telefono in questo video Perché è troppo veloce Comunque il sondaggio è sul nuovo walkthrough E sarà su tre giochi Potete scegliere tre giochi Che saranno Prima di tutto Until Dawn Perché Perché si Un gioco abbastanza Corto diciamo Non ha una storia lunghissima Però la storia è molto bella Come gioco è veramente fatto da dio Devo dire L'ho veramente Veramente fatto da dio Infatti mi è piaciuto un botto L'ho giocato una volta E comunque ho visto il gameplay In giro più volte Ehm Mi è piaciuto sempre Comunque i giochi horror Mi piacciono Veramente tanto Non sono proprio il mio genere preferito Ma comunque mi piacciono Poi È un punto in più Che è un'esclusiva PlayStation 4 Lo sapete che io sono molto di parte Cioè io Io tipo Veramente tanto PlayStation 4 In confronto A altre Marche Che potrebbero essere Xbox Nintendo O comunque il PC Diciamo che La mia guardatoria va Sony Diciamo PlayStation Nintendo PC Xbox Non volete Menni male Giocatori di Xbox Ma non è la mia console preferita Nonostante io ce l'abbia Io ho la Xbox Di prima generazione Non mi dispiace come console Il joystick Non mi fa proprio impazzire Mi dispiace che non abbia Tante esclusive Perché comunque Potrebbe veramente Fare tanto Tanto successo Quante esclusive Se uscissero più esclusive Prendete tipo la PlayStation 4 Siamo A Giugno ormai Possiamo benissimo dire Siamo ormai a giugno 2018 Sono già uscite Due Esclusive Se non erano solo due God of War E Detroit Però Ce ne sono già tante Annunciate Confermate Ma non ancora Magari per il 2018 Considerate Scela Spider-Man Death Stranding Days Gone The Last of Us Part 2 Che è un gioco Che attende tantissimo Un gioco che attende tantissimo Avete visto anche in un video precedente Quindi sono abbastanza di parte Però non siamo qui per parlare Che questo Il secondo gioco È proprio The Last of Us Perché è un gioco Che mi ha Mi ha veramente emozionato Uno dei miei giochi preferiti Potrei dire Quasi il mio gioco preferito Diciamo Abbastanza pari merito Con Detroit Become Human Con i God of War E roba del genere Perché comunque Hanno delle storie Che mi emozionano molto tanto Niente da dire The Last of Us È diciamo Uno dei giochi più conosciuti Al mondo Tra un po' Insieme a God of War Insieme a Minecraft GTA Fortnite Sono tutti giochi Abbastanza conosciuti Anche chi non è proprio Giocatore giocatore Se vai a dire Hey The Last of Us Lo conosce Un pochettino Comunque almeno Il nominale L'ho già sentito In confronto ad altri giochi Un po' meno conosciuti Poi Come ultimo Ultimissimo gioco Zombie Un gioco che Non so quasi niente L'avevo preso Con il Playstation Plus Di Non so quando Era veramente Tanto tanto tempo fa Un gioco che Ho provato I primi Dieci minuti Di gameplay Sia no Ma non ci ho capito Quasi niente Sicuramente Mi ha convinto Un pochettino Ma non è che Avevo alta priorità In quel periodo Come giochi E l'ho lasciato Un po' da parte Poi è andata A fine Che l'ho disinstallato Adesso l'ho risinstallato Non l'ho ancora mai avviato Perché non provo a portarci Un walkthrough Se vi piace Bene Così gioco un gioco nuovo Però mi raccomando Nei commenti Commentate tanto E scrivetemi Altri giochi Che potrei proporre Una volta finito Bo Until Dawn Della sto faz O zombie A vostra scelta Io vi do il tempo Oggi giovedì Che esce il video Io vi do il tempo Fino a giovedì prossimo Far uscire giovedì prossimo Quindi il Un attimo Quindi giovedì 7 giugno Far uscire il video In cui dirò Qual è il primo Gioco Che è stato sorteggiato Cioè il gioco Che ha vinto Il sondaggio E Il Il giorno Cioè il martedì dopo Quindi martedì 12 Uscirà il primo episodio Proverò a far uscire O un video settimana Così l'altro video Lo uscirò per Minecraft O altri giochi H1Z1 Chissà se magari ci scappa Un video di Fortnite Insieme a qualcuno Dubito perché non è proprio Il mio gioco preferito Però ogni tanto ci gioco Perché mi chiamano i miei amici Giusto per stare un po' in compagnia Faccio Ci gioco anche Ehm Niente Io Vi ringrazio E vi invito a votare Sia nella finestra Qui in alto Ehm A Destra Sì Qui in alto Alla vostra destra Ehm Che ci sarà Il puntino Da i Per informazioni Ci sarà la scheda Con i sondaggi Ehm Votate mi raccomando Invito tutti a votare Ehm E scrivete anche nei commenti Se volete proporre altri giochi Magari che io ho già Oppure no Adesso non sto lì A linkarmi tutti i giochi che ho E non ho Quindi vi chiedo Iscrivete dei giochi Vedrò se riesco a procurarmi bene Se ce li ho già Ancora meglio Se Non mi piacciono Pace No ma tanto dubito Che trova C'è un gioco A meno che non l'abbia già provato Non dico mai che non mi piace Quindi Io vi ringrazio Da Giulio è tutto Ciao A tutti Bella Ciao 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 Ciao